Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri a Carpino sul Gargano. Intorno alle 22, il solaio del primo piano di un'abitazione su tre livelli in corso Garibaldi, nel centro storico del paese, ha ceduto ed è crollato, finendo almeno tre metri più sotto. Tre persone sono rimaste ferite. Si tratta del proprietario, il 69enne Michele Di Fiore, di un anziano di 82 anni, Vincenzo Toma, e di una donna di 62 anni, di cui non si conoscono le generalità. Ad avere la peggio, il Di Fiore, che soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato presso la casa sollievo della sofferenza San Giovanni Rotondo, dove i medici gli hanno riscontrato fratture e gravi traumi in più parti del corpo. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata. Ferite guaribili in 25 giorni, invece, per l'82enne, mentre la donna, che ha riportato ferite più leggere, è stata medicata sul posto. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco intervenuti, a causare il crollo del solaio, potrebbe essere stata una crepa nella struttura provocata dalla scossa di terremoto di magnitudo 3.4, che 48 ore prima aveva interessato proprio la zona tra Vico e Carpino. Dopo la messa in sicurezza della zona interessata dal crollo, l'immobile è stato posto sotto sequestro. Sull'accaduto indagano i carabinieri. a